Scioglieremo il dilemma, scioglieremo il dilemma in effetti. Tutti nelle gabbie, tutti nelle gabbie. Partiti. E' un vantaggio Drampic davanti a Dolce Segreto, Grand Oasis, Hot War e Golden Ground. All'inizio della curva conduce Drampic davanti a Dolce Segreto, Grand Oasis, Golden Ground e Hot War. Poco prima dell'ingresso addirittura è un vantaggio Drampic davanti a Dolce Segreto, Grand Oasis e Golden Ground. I cavalli entrano addirittura. Con Drampic in leggero vantaggio, attaccato all'esterno da Dolce Segreto. Seguono Grand Oasis, Hot War, Golden Ground. Passa Dolce Segreto davanti a Drampic, Grand Oasis allo steccato posto. Seguono Hot War e in leggero vantaggio Dolce Segreto, attaccato all'esterno da Golden Oasis. Seguono Drampic e Hot War, conduce Dolce Segreto attaccato all'esterno da Grand Oasis. Passa Grand Oasis davanti a Dolce Segreto, Hot War e Drampic. Ma che vai ho detto io? Guardate che può vincere ma non se la porta da casa. Perché l'altro giorno non è che sia andata forte anche rientrando. Può darsi pure, può darsi pure. No, è che se l'hai incollata, non dico. Se l'hai incollata, non dico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.